Foggia è divisa tra accoglienza e intolleranza. Il volto della città oggi risulta segnato dai fenomeni migratori che, specialmente in alcune zone, sono diventati estremamente visibili. Se da un lato il capologo dà uno beneficio ad iniziative solidali che spingono verso l'integrazione, dall'altro deve fare conti con i malumori dei cittadini. La convivenza è difficile e il pensiero che si rincorre nel quartiere ferrovia. Quindi c'è una parte della città che testimonia il proprio senso di accoglienza, partecipando alle iniziative solidali, l'ultima in ordine cronologico e colloquia. Sono 8.000 euro i fondi raccolti dalla Fondazione dei Montiuniti da destinare al dormitorio dei Senza Fissa di Mora di Sant'Alfonso, una struttura, lo ricordiamo, nata per alleviare le sofferenze dei più deboli. Ma nel quartiere ferrovia, dove insiste un variegato mosaico di componenti culturali, lo scontro tra immigrati e residenti si fa più acceso. Le convivenze, quando ci sono delle realtà molto diverse, è sempre un po' difficile. Che cosa spaventa di più voi commercianti e residenti del quartiere? Noi spaventa di più il degrado che hanno portato. Per degrado cosa intende, ad esempio? Chi va nudo, chi prende una carta e la butta a terra. Non c'è rispetto? Non c'è assolutamente rispetto. C'è illegalità, c'è schifo, c'è sporcizia e si stanno vendendo le case e non riescono a venderle. Ci sono gente che si comporta bene e altri che vanno controllati un po'. Bevono, si ubriacano, fanno casino. L'insicurezza provoca timore, ma forse solo conoscendo le storie che si celano dietro questi volti, come da tempo fanno i volontari dei fratelli della stazione, è possibile preparare la città a un modello di accoglienza diverso.